Ciao a tutti! Scusate l'inquadratura super avvicinata, però se mi metto qui sono tutta al sole e sudo come un porcellino quindi mi metto qui che sono più comoda e sono qui per annunciarvi l'inizio della settima manche di gioco, del gioco 2p84 diet che si svolge su ogni gruppo di facebook di cui vi metto il link nell'info box ormai sono bravissima a dirlo, ho visto? e dite dopo sette volte che l'hai detto e niente, vi auguro un ottimo inizio manche vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete dare al vostro corpo squadra il vostro peso aggiornato dopo Natale perché dai non prendiamoci in giro, abbiamo preso quasi tutti i peso e quindi è meglio aggiornarlo subito piuttosto che alla fine della manche quando dovrò dire che avete preso tutti quanti i 2-3 kg e mettiamoci sotto mi raccomando di positivo c'è questo, almeno io in questi giorni mi sono convinta di questo più peso avete preso durante le vacanze natalizie più sarà facile perdere peso in questa manche perché comunque sono chili freschi quindi li buttiamo giù che è un piacere almeno io mi sto autoconvincendo di questa cosa e speriamo che sia vera tutto sommato, secondo me è anche abbastanza vera perché già da ieri a oggi ho perso praticamente mezzo chilo dei due e mezzo che avevo preso durante le vacanze natalizie quindi secondo me funziona questa faccenda e vi auguro un in bocca al lupo ancora i premi non li ho presi saranno comunque come al solito super simbolici niente di non aspettativi palette e robe strane perché sono solo pensierine alla fine il premio è stare bene rimettersi in forma non essere affaticati quando si fanno le scale o semplicemente io all'inizio ero affaticata anche quando parlavo tipo non so se me l'ho mai raccontato una volta ero a cena con le mie amiche e tipo avevo il fiatone ed ero seduta ecco quando ho capito che era affaticata anche soltanto a sbattere le ciglia ho deciso di mettermi a dieta e niente quindi lo facciamo per la nostra salute non certo per il mio premiuccio il mio ombrettino che vi comprerò e se trovo un paio di pennelli della Essence che costano poco e comunque io mi ci sto trovando bene ve li compro e li metto in palio quando avrò i premi comunque ve li posterò su Facebook non credo che sia questo cioè non deve essere questo lo stimolo principale vi auguro un grande bocca al lupo e ringrazio tutti i nuovi partecipanti al gioco bocca al lupo anche voi mi raccomando e ora mi informerò le squadre e le pubblicherò su Facebook mi raccomando raggiungete il gruppo privato della vostra squadra ogni squadra ha un gruppo privato se voi lo raggiungete potete unirvi ai vostri compagni di squadra in questo modo potete in qualche modo sostenervi a vicenda e stimolarvi a seguire la dieta vi consiglio di fare come ho fatto io cioè scegliete un bel premio e abbiate in mente quello cioè soltanto se riuscirete a seguire la dieta non è una questione di perdere peso non è solo questo è una questione di riuscire a seguire le regole per me almeno se sono brava e mi rendo conto che non sgarro troppo allora mi merito il mio premiuccio questo è il mio punto di vista e vi consiglio di fare così perché la questione del premio secondo me stimola moltissimo e ora riprenderò a fare ricette dietetiche ve lo dico subito basta porcate natalizie anche perché è il Natale passato è viva è molto meglio così ho già in mente due o tre ricettine che ho provato e mi piacciono un botto quindi le pubblicherò anzi le registrerò ora mi mancano gli ingredienti le registrerò presto e basta ah mi avete chiesto non c'entra niente con il gioco mi avete chiesto un video in cui vi faccio vedere le regole a Tarizzi lo registro ora però lo metto sul canale secondario cioè quello sfazzatura perché qui dai non c'entra niente quindi se siete interessati ora lo registro poi lo pubblicherò e dopo vi metto il link a quel video nell'info box così di questo video così insomma comunque quasi tutti i video del canale secondario li potete trovare fra i miei preferiti li metto apposta così rimangono all'interno del canale anche se non sono fra i video fra i video del canale stesso ok sì mi sono incasinata abbiate pietà e basta scusate la voce è un po' rauca però ho pure la tonsillite me la sono un po' rata dietro dalle vacanze in montagna che affare e basta vi mando bacione buona mâche buona mâche